Grazie Lucman Poi cagarella esatto Madonna quante cagarella avevi quel periodo là Anche adesso Basta pollo fritto Paolo Le live col guaranà tutto convinto del guaranà Gabriele Gabriele Il guaranà è tanta roba Chi era Gabriele? Mi fise la pista Ah è vero Grazie Tref Counterpick Non è buono con Jinx Non è buono con Jinx e uno ti ha mandato un boccale che mi ha fatto morire da rire e uno ti ha detto ma smetti di fare tutti i stipi e poi prendi Blitz aveva ragione però era un bel meme ma non aveva ragione aveva ragione nel senso che tu lo prendi per un senso però però guarda qua Blitz ce n'è uno che non posso grabbare di Sin poi vabbè potevamo prendere qui tank qui tank potevamo prendere poppy poi spostare un po' il reparto cibo anche a destra finisci l'ultima no no mi sento male veramente si si non l'avevo già fa cazzo mi ha mandato malissimo uuuh contro un trash challenger con l'aftershock contro l'Issin challenger stiamo iniziando a giocare contro la gente contro la gente che conta chi è la casera il favore no è quella ecco quel che era più comodo ma questa è la quel che era fammi un passaggio del buffio per l'opo stiamo davanti benvenuto king azza king queste sono le vocali migliori che abbia mai prodotto madonna ho tutta la buca bisogno di acqua dopo è sale puro con la merda porca puttana se sale puro bravo il king eh questo è dopo il w capito no cosa lì è fan divertente no no ho scritto così ah fan così potevo morire qua sai dici o forse è un un alfabeto che dice minchi tutto il tempo a controllare per cisate che sfiga no potevo passare tutto il giorno potevo passare cazzo potevo passare tutto il giorno potevo passare è incredibile potevo stare lì altri dici minuti cazzo mai successo una cosa del genere in 30 anni lol bellissimo bellissimo mamma mia che chissate sono lì 49 minuti cazzo cazzo ciao cazzo oh la madonna wow Ah ma io non l'ho amata, loro si Mi potrebbe soppare adesso Bene 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 Buono cazzo Non sembra vagilissimo come matchup Jax contro GP, non ho idea Poi la lane ce l'ha messo in merda Ah ma non muore Come no Ma sai che potevamo vincere, bastava che exostassi Lee Sin Exostavo Lee Sin, facevo lei su Lee Sin, avevamo vinto il fight, mannaggia a me Pagano meccanico Poi se potevamo, no Sto carando Drake As long as it takes Benvenuto King Ah haza King Ciao Baolino come stai? Sono 19 mesi di sub I soldi meglio spesi del mese Ciao! Grazie King, sei dolcissimo Cosa c'è il jungler? Non mi capace di come giochi così Così aggressive Magari in di là Oh terrorizzato Poi magari sta facendo finta Può essere certo No, può essere andato via il sacco Sì 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 No, ha fatto finta Top side sicuro Questa c'è il flash No, non ce l'ha Bene, cazzo Bene, cazzo Non muoio Ulti di gp non ci deve Può essere Nooo Ah No, perché? Io non muoio tranquillo Hai rischiato cocco Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, giusto Ho visto Volibear Ah, no, no, avevo visto che non morivo Minchia Oh Oh Nooo Non cazzo Non cazzo cooldown ed action Questa partita perché prenderò un sacco di grab Sono l'unico che fa cooldown ed action Ma non me ne fotte niente di quello che fanno gli altri Io ragiono con il mio cervellino Io ragiono con il mio cervellino Eh, se posso spammare i grab gioco CDR Partita di livello altino, eh? Eh, l'ho vista, si Eh, si L'ho percepita Ma noi non ci facciamo minimamente No, anche perché si è messo bene, eh Ho visto solo questo co**o, eh, Giang Che poi mi sembra che ho meno alti kern Trascio in mid, perai sta lì Peccato quanto cazzo c'è rimasto Brava Eh, ma si muore Mamma Cazzo di livelli sono questi Ci giochiamo, ci giochiamo Occhio perché ti... Molta buona la cazzo Ulti ggp? No, l'ha appena usata Paolo Ulti gp? Sì Mi ha rotto il culo là nel bash Ho sentito solamente delle leggeri... Ho sentito delle leggeri vibrazioni nel culo Sì, un leggero solletico ho sentito Faccio il logo direi Non so cosa deve Ma la cosa... La cosa folle che... Ho visto è che... Orianna ha letto la... La... La giocata ed è venuta... Stiamo inseguendo... No, stiamo inseguendo troppo Per quello ha tippato Ah, tippato, Ianna Sì Ah, ok Sticcato, non hai preso l'ass Vabbè, volevo l'altro Ma allora che agrivi il livello 6 Mamma mia che livello, cazzo 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 Eh, non si crede... Ma veramente... C'era un pochino Eh, ma il mio pezzello se vuole entrare... Entra... Non chiede il permesso Cazzo Va male Bella ult, ci si sa Tancata la Syndra Se non era morto E mo non posso forse neanche flusciare perché... Wow Mo Syndra muoia per quella ulti No Non possiamo giocare qua Ho sbagliato tutto Ah, i minion di merda Ah, i minion di merda Se no io flusciavo là Sei sbagliato? La U Cioè... Aveva il barrier Ho grabbato sul barrier E se io non facevo quello vincevamo Allora, l'errore principale è Jinx che sta... Ah... Troppo avanti Guarda che si fa grabbare che sta troppo avanti Muore... Ma io non... Ehm... 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 Cazzo lo sapevo, cazzo Guarda, 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 guarda Che schifo, eh Mamma mia, la mia giungla E' ancora là lì si, forse Dove essere pure qua Guarda, guarda, guarda Dove cazzo va Jinx? Matta E poi se Jinx non utilizzava la ulti per quella flippata vincevamo comunque, eh Perché in tutto quello noi non avevamo la ulti di Jinx Eh sì Non l'ammazza quello Muore addissimi probabilmente Gran roll Ah, bel kick Wow Bella ulti Un buco Porco Porco cazzo Fu forti questi, eh Questo è un gran grab A me sembra anche fortuna Nooo Non è fortuna Sono dei grandi player questi qua No, no, no Eh, per il grab intendo dire Eh, ci sono attenti Cazzo l'hai mancato per... Ogni volta per pochissimo Ecco la verità Comunque Jinx sta prendendo vantaggio No ma è Volibar il... Il carry adesso Orco giù da norm Non si può giurare Mi accontento Loget era curioso Sì, mi faccio il Loget Qua che beck di merda Quello mi da soldi? Mi sa che mi da soldi quella roba Quanti mi da? Sì Non posso uscire di base senza il Loget Cioè Sbloccato E... Gigiamo per il drake? No Sono a ritardo Siamo a ritardo Dovrebbero addirittura essere qui pronti a fare pick Eh, mi sa che qualcosa l'ho visto comunque Ma io sono terrorizzato No ma io sono terrorizzato Non si gioca, non si gioca Non è un lato di mappa che mi appartiene questo Questo è importantissimo Ok, questo... Questa Ward potevo metterla Uh... Ok, c'è la quest Mi faccio quello per tankare, sì E qui non c'è E qui non c'è Non muoio, no Sbaglio di noi Ma ma nena però Eh, cazzo Cazzo Al exos Non muoio Muore, sì va bene va bene morito oh oh fuck we've actual knights so bad jinx, glad of Oliver Anche se non ho l'ha erfato Se non ho l'ha erfato sia Nightstone che Frozen Che sono item che giocavo un sacco Questo potrebbe morire forse Comunque qualche truffa, quanto cazzo di scuro si prende fra bugger e tutto, incredibile Te lo grabbo e non è sicuro che muoia mi da un fastidio Vabbè con un'altra di Kegri Morto sempre Cosa stabli fanno? Tanto cade lo stesso, ha messo l'aria all'altizia Mamma mia, è un livello altissimo Io non muovi, mi sa Molto buono Mamma mia, Paolo Cannone Dai cazzo, dai che la vinciamo Bellissima questa giocata, eh Quanti 22 meritava? 6, 7, 15 Mamma mia ragazzi 2 Al momento 2-22 Chatto un po' morto stasera, vabbè ci sta Non li sto cagando gli stris Giroiamo per bot lane, dai, dai Jax è grosso? È vero, perché se 0-0-2 è messo bene Ok, l'importante era salvare la Tor E dice che muore quello, non è death Nutrofusion lui Qui c'è la Phelos L'oliver si fa doppia kill Ho messo la ward, guarda Vedi, ha cliccato la ward Sennò aveva perso Ah sì? Oh via che ciscino Ciscino che abbiamo preso Ma che è sta ult? Eh, Orianna è un po' in panico, eh Non sta giocando bene Stattibile il drago, no E' meno così Ah, ah, sta giocando A chi è che devi stare attento Sennò da più forte ma c'è un item che ci counter Ma lui non può ingaggiare così Proprio cringe Cioè che lui è il nostro più fiddato Ci siamo messi male Eh, è sbagliato Eh, o io ingaggio Lui non parte Ma poi Sennò ci stava zonando troppo Non potevamo entrare Allora giù Non è che l'abbia nessuno Oddio Possono chiamare il banan tranquillamente Dove va Zinx? Così da scuola? Oh ma non gioco Qui ci dovrebbe essere Sennò C'è una situazione di merda Non è detto che sia un male Pagato l'ulti Sì Due ulti Può giocare E' sicura? E' sicura come on ora siamo sfiga usa lo stun nice nice nooo era facile mannaggia e vinci 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 sempre muore 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 no vabbè non lo potevo grabare la speranza era un flash rubato che record che record in me che fa questo ha flashato Jinx ha detto da questa cazzata lui è enorme giochiamo per bot e per baron comunque flash ha tiltato siamo sicuri eh? flash ha tiltato è 189 e se faccio non c'è non c'è non c'è mi piace hai fatto il tuo dovere hai fatto il tuo dovere soldato hai fatto veramente il tuo dovere ti piace il grabber no look vgp non è detto che c'è una bella idea oriente è proprio un cesto a pedale ragazzi grazie a dio grazie grazie a dio grazie manco muore grazie a dio grazie è morto la sborata suprema ragazzi giochiamo per non è detto giochiamo per frozen dai ma che non è faker non credo non credo di ragazzi per gli otto mesi king sto ringraziando manco un zab sorry boy sono in full autismo c'è la best trash pensavamo prima non gioco sempre sto giochino facciamo io a lui a volte vinci te a volte vinci a me quel giochino ha vinto sempre lui no prima l'hai grabato a red male malissimo malissimo dovrebbe flashare il trash per me vai via vai via vai via no ho usato il flash due minuti fa mi sento fatto che angolo di merda mamma mia abbiamo fatto un push mid no hai salvato la torre secondo me questa roba parte che cade ma comunque non è questo il problema non penso che cada il problema è che abbiamo fatto un push in mid che andavamo picchiati è caduta invece pensavo che Jack se la salvassi wow wow visto come dodgiano prima dodgiano poi non dodgiano sono imprevedibili ormai hanno cambiato la maniera di dodge non era così un tempo anche elo alto oh gioco 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 Ah Ah Ci può giocare Ci può giocare Un'inibitor facile qua Forza game Ma io grabe game Ragazzi Che partita ragazzi Che partita ragazzi Quanti honor ci abbiamo? Perché potrebbero arrivare ne tre secondo me eh? Potrebbero arrivare tre honor secondo me Può essere Maledetti Ma diciamo che ve l'ha giocato un po' Vabbè ci ha onorato l'add carry che Che è quello che ha carriato quindi Volibert ha giocato bene tre quarti della partita Poi si è perso un po' con quella Gazzolava Conta il challenger? Eh non lo so ragazzi controlliamo Cioè 552 LP Il challenger sarà 700 LP Sono 150 LP Sono sette partite Ma poi comunque ragazzi era una partita da blitz che anche lo so che sembra che dico sempre Sì sì ma 5 grappabili 5 grappabili Quello vi è chiesto erano tutti grappabili Tutti Anche lì sì No lì sì secondo me Solo perchè c'è un escape ma se lo grabbi non è un danno Il problema è se li grabbi Grabbi è un danno Mumu Malfight Ornn Quanto bene il palo delle donne è bella bocciotto grazie Oh sono quasi 1800 sub Ah ma li ho appena raggiunti Anche se qua mi dice 1199 Qua Giochi molto meglio quando c'è Michael Il fatto che gli fai commenti ti aiuta secondo me Sì ma ragazzi Cioè io e Paolo assieme Abbiamo una Win rate Una win rate Non so se voi andate a vedere i video Cioè la scorsa settimana vinte sette di fila Sei di fila Troppo forte Se avessi dei fan visibili sarebbe più facile Perchè sembra che non ti devo deludere capito Sì 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 Ma sei mi devi Perché mi devi Cioè questa partita era di livello Cioè questo Sindra chi è? Per me è Faker il tizio Ah Faker si chiama Questo è Faker Ti immagino che ho grabato Faker Faker ubriaco Adesso lo bene Adesso lo bene